Risksharing è un tema sempre più di attualità, tenendo conto dell'evoluzione della terapia, del costo dei farmaci e della necessità di garantire l'accesso di questi farmaci a tutte le persone che potenzialmente possono averne bisogno. Parliamo di questi temi con il dottor De Nigro che all'interno dell'AIFA coordina i registri proprio sul monitoraggio dei farmaci soggetto a questo tipo di controllo di risksharing. Dottor De Nigro, innanzitutto, quali sono gli schemi degli accordi di risk sharing? Gli schemi degli accordi di risk sharing si basano su dei meccanismi di rimborso condizionato dei farmaci, una volta che questi hanno ottenuto l'autorizzazione all'emissione in commercio e si basano su delle applicazioni di particolari tipologie di scontistiche legate o alle durate medie dei trattamenti dei farmaci oppure alla valutazione dell'esito della terapia applicata. Ce ne sono di tre tipi se non ricordo male, quali sono con precisione? Vengono definiti con una terminologia che è spesso soggetta a cambiamenti e quindi ad adattamenti, comunque genericamente si chiamano accordi di cost sharing laddove il principio è un rimborso sul prezzo dei primi cicli per i trattamenti per tutti i pazienti trattati in appropriatenza prescrittiva e poi il risk sharing o il payment by result dove invece la percentuale di rimborso è soggetta a un controllo dell'esito del trattamento. Come funziona in pratica la prescrizione dei farmaci oggetto di questo tipo di registri? I registri sono strutturati per tracciare e monitorare tutto il processo di iscrizione di un paziente all'interno del registro da parte del medico prescrittore che deve ottenere l'eleggibilità attraverso un sistema automatizzato che serve a verificare il rispetto delle condizioni registrative del farmaco, quindi il rispetto della scheda tecnica del farmaco e delle condizioni in cui il farmaco è stato studiato nella fase preautorizzativa, cioè negli studi clinici. Questo serve a migliorare l'approccio del clinico al tema della proprietà prescrittiva ed evitare che nell'uso di farmaci potenzialmente molto innovativi e anche molto costosi vengano commessi degli errori di appropriatezza nella prescrizione del farmaco e quindi un uso non proprio dello stesso. Parlando di farmaci oncologici mi sembra di capire che gli attori fondamentali di questo processo siano innanzitutto l'oncologo, cioè il clinico e il farmacista ospedaliero. E cosa fanno queste due figure? Assolutamente, poiché il clinico ha il primo compito, che è il suo compito istituzionale di individuare il paziente, decidere di prescrivere un farmaco, prescrivere il farmaco, poi la seconda parte, quindi l'altra metà di questo cielo è invece il lavoro svolto dal farmacista che deve attraverso lo stesso sistema ricevere tutte quante le prescrizioni, trasformarle in dispensazioni di farmaco altrettanto scienziate al sistema e inviare poi tutto il materiale, la preparazione vera e propria al reparto. Altro compito del farmacista è importante, è quello di effettuare una sorta di centralizzazione del controllo di tutte queste prescrizioni perché poi lui ha il conteggio in mano delle percentuali che poi sono da assoggettare a rimborso servizio sanitario nazionale oppure a rimborsi speciali attraverso gli accordi risk sharing. Su quali criteri si basa l'eligibilità di una terapia a rimborso? Innanzitutto la terapia deve essere applicata a un paziente in appropriatezza prescrittiva, quindi devono essere rispettate le condizioni iniziali di registrazione del farmaco. In secondo luogo attraverso la contrattazione che viene fatta con le aziende si stabilisce un periodo che varia ovviamente da farmaco a farmaco in cui deve essere effettuata una rivalutazione dello stato della malattia del paziente che consente di verificare se la terapia è stata efficace, non è stata efficace o addirittura è stata mal tollerata dal paziente, quindi potenzialmente gli è anche provocato un danno. Sulla base di queste informazioni poi si applicano le regole delle procedure di accordo negoziale risk sharing per cui una quota percentuale o tutta la spesa effettuata fino a quel momento per il farmaco deve essere rimborsata dall'azienda farmaceutica. E come fate a stabilire se il farmaco ha funzionato, ha avuto un successo clinico oppure no? Abbiamo detto che i registri sono strutturati anche da un punto di vista potremmo dire filosofico per fotografare la realtà della pratica clinica, quindi non intervengono direttamente nelle decisioni che il clinico può emettere. Semplicemente il clinico in scienza e coscienza applica la normale pratica clinica per la valutazione dello stato della malattia, quindi utilizza le diagnostiche normalmente utilizzate per effettuare questo tipo di verifica, lo traccia a sistema e dà un risponso. Il risponso può essere progressione della malattia oppure tossicità non tollerabile o in questo caso partirebbero i rimborsi. Quali sono i meccanismi di controllo di questi sistemi? I meccanismi di controllo di questi sistemi sono molteplici. Il primo meccanismo di controllo è tutto interno al rapporto fra clinico e farmacia di riferimento, perché come abbiamo detto le due entità in qualche modo si controllano a vicenda e questo è un primo effetto positivo introdotto da questo tipo di sistemi. Dopodiché c'è naturalmente sempre attivo il controllo effettuato dalle istituzioni sanitarie della Regione tramite i servizi farmaceutici, gli assessorati, gli ispettori delle ASL che hanno un compito fondamentale nel verificare che ci sia una corrispondenza fra il dato in qualche misura autocertificato presentato all'interno del registro e invece il dato reale che è presente all'interno della cartella clinica dei singoli pazienti. Questo è un compito specifico che hanno gli ispettori delle ASL e che quindi operano a livello regionale. In questo senso ci deve essere una responsabilità anche dell'attore regionale e tutta la sua catena nel migliorare il tipo di applicazione delle terapie sul territorio e la comunicazione delle stesse attraverso i registri. Sono passati cinque anni dall'inizio di questo tipo di accordi, qual è il bilancio che si può trarre? Naturalmente i registri hanno vissuto una prima fase di intenso lavoro per costituire la rete perché naturalmente si deve pensare che agiscono su tutto il territorio nazionale, su tutti i centri che prescrivono nel caso specifico dei farmaci oncologici terapie oncologiche, in special modo terapie avanzate e quindi centri che non sono mai stati spesso in comunicazione fra di loro adesso sono riuniti all'interno di una rete in cui il centro riesce a comunicare con il singolo medico del singolo ospedale in totale contemporaneità con tutti gli altri e questo è il primo risultato positivo che comunque rappresenta un grosso passo avanti rispetto alla situazione precedente. Il secondo punto è che una volta costituita la rete questa è stata utilizzata, è stata utilizzata per il tracciamento dei pazienti ed è stata utilizzata per anche l'applicazione degli accordi negoziali particolari che attualmente sono in piena fase operativa, vengono pubblicate le procedure operative di gestione dei rimborsi per questo tipo di accordi e si prevede un allineamento totale delle procedure nei primi mesi del 2011. A partire da quel momento potremmo dire di avere assolto tutte quante le richieste di base di questi registri e potremmo addirittura pensare a degli sviluppi evolutivi futuri.